Grande fratello VIP, Soraya si lamenta di fan pungenti, vorrebbe già scappare. Luca Salatino ricompare sui social, video, insieme a Soraya dopo l'addio al grande fratello VIP. L'extronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, aveva annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dopo i tre mesi di reclusione trascorsi all'interno della casa più spiata d'Italia. Questa mattina, però, Luca è riapparso nelle storie della sua fidanzata, che non si è fatta problemi a lamentarsi perché il ragazzo non farebbe altro che cantare dalla mattina alla sera. Tanto da scatenare i commenti pungenti dei fan social. Luca Salatino ha scelto di abbandonare definitivamente la casa del grande fratello VIP nel corso della diretta del 26 dicembre. L'extronista ha gettato la spugna dopo che, per diverse settimane, è stato al centro dell'attenzione con i suoi pianti e le crisi d'amore. Dettate dalla mancanza della sua fidanzata. Così, alla fine, ha preferito mollare la presa e abbandonare il cast delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Senza rinnovare il contratto per proseguire questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia fino al prossimo aprile 2023. Una scelta che sui social ha fatto esultare una parte dei fan delle reality show. Molti dei quali si dicevano ormai stufi delle continue lamentele di Luca Salatino. Terminata la sua esperienza al GFVIP, Luca in un primo momento aveva annunciato un periodo di pausa e di riflessione dal mondo social. Così da poter riprendere in mano le redini della sua vita. Questa mattina, però, l'extronista di Uomini e Donne è ricomparso nelle storie social della sua fidanzata Soraya. Luca è apparso mentre cantava il brano Portami via di Fabrizio Moro, che più volte lo ha fatto commuovere all'interno della casa più spiata d'Italia, proprio ripensando alla sua ragazza. Sta benone. È tutto il giorno che canta, felice. Vuoi dire qualcos'altro? Esclama Soraya nel video apparso su Instagram dove sembra quasi lamentarsi del suo fidanzato. Immediata la reazione dei fan social del GFVIP, molti dei quali hanno ironizzato sulle lamentele di Soraya. Tanto da ipotizzare che la ragazza già non ne potrebbe più del fidanzato. Lei vorrebbe già scappare, ha scritto un utente commentando le storie della coppia nata a Uomini e Donne lo scorso anno. Lei sembra già così piena, satura di Luca dopo pochi giorni, ha scritto un altro commentatore social delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiu già che voglio con tutto altceva, inchide ochi e poti imagina che lumea è a ta maggi in più, poti caser sul, 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 sul Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n'au avut hava C arri dal, 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 c arri dal pot che io sassare Ad vanca nu